Oggi giocheremo al gioco più strano e pazzo del mondo in cui vestiremo i panni di un padre di famiglia che conduce una bella vita normale Però c'è un piccolo dettaglio, siamo dei polpi E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Stefano che se giochiamo a Octodead E oggi giocheremo a un gioco davvero molto molto strano e molto particolare Ci è stato consigliato un po' di tempo fa da un consolino Noi l'abbiamo trovato assolutamente geniale e quindi subito ci iniziamo a giocare Esatto, prima di iniziare il video voglio dire giusto una cosa Sondaggino, commenti, like, fateci sapere se volete una miniserie Perché il gioco ha una sua storiella, ha un suo senso Quindi se volete più episodi fatecelo sapere e noi nel caso volentieri facciamo una miniserie di questo gioco Siamo pronti? Prontissimi! Allora ci abbiamo giocato un pochettino perché i comandi sono totalmente fatti Questi sono la cosa più pazza e strana del mondo Esatto, quindi mi sono dovuto un po' abituare e anche così ho paura che farò tanti 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 danni Quindi preparatevi a cose strane, decisamente strane Esatto, molto strane Tipo uno schermo bianco Esatto Non si è mai visto? Non si è mai visto un caricamento, che scherzi Esatto Comunque siamo qui nel giorno del nostro matrimonio Esatto, il giorno più importante della nostra vita La nostra mogliettina ci sta attendendo qua perché evidentemente siamo in ritardo E adesso vedrete la cosa più bella di tutte Allora, sono in ritardo, è sempre in ritardo Che maleducato però, non solo sei un polpo seppur maleducato Cioè non va bene questo Ho forse in ritardo perché è un polpo Ah beh sì, hai ragione Tu non sai le difficoltà che può avere un polpo nella vita da umano, ho capito? Eh eh, ci credo Eccoci E infatti guardalo che si mette la lacca nei suoi capelli che non ha Però è bellino Comunque, ovviamente noi per prepararci facciamo un disastro nella stanza, lanciamo tutto Sì, perché siamo polpi Allora, prendiamo i cuscinetti, acchiappiamo tutto Praticamente io, muovendo il mouse, muovo il suo braccino E quando clicco ovviamente acchiappo le cose È tutto polpesco, sei tutto così Esatto, però per fortuna il vostro Steph ci ha giocato un pochettino e ha capito come funziona E infatti sei bravissimo Guarda qua Guarda com'è Opla, opla E adesso, ok, e devo tirare via E perché viene giù il muro? Perché è troppo potente un polpo, ho capito? Così Spaccata Ti piace? Allora, allora, allora Io davvero ho paura per questa eventuale miniserie Scusami, scusami Guardami Non ti sembra una persona affidabile che cammina normalmente per strada? Cioè se io ti vedessi così in mezzo alla strada scapperei urlando Ma non lo sai che tutti i giorni faccio le sfilate di moda? E io faccio la passerella camminando così, guarda Eh, vi piace il mio vestito Gucci? Allora, devi andare a sposarti in queste condizioni Cosa ne pensate? No Senza distruggere tutta la sala Ma tu immaginati la sala della cerimonia distrutta così Eh, vabbè Oh Che rovina Tutto a posto? Stiamo rovinando il giorno più bello della nostra vita Ma era tutto troppo perfettino, capito? Volevo rendere un po' più vero, un po' più naturale Ok, piacciono le cose un po' strane Perché questo bottone comporta una cosa meravigliosa Quindi mi devo preparare una cuffietta un attimo Che succede? Non riesco a mettermi una cuffietta Ecco che succede, ma porca miseria La destra nell'orecchio destro Ok Ce la faccio? Bravo, ce l'hai fatta? Ok Adesso ti faccio vedere Ok Si balla! Si balla! No, ma perché ti danno queste cose? Adesso non lo affisce più di ballare e cantare Aiutatemi Portatemi via Perché io non ce la posso fare Sono un palpo e festeggio per il mio matrimonio Sono felicissimo E butto giù anche la torta Questa è colpa dei consolini che ti illudono anche che tu puoi andare a Sanremo Cioè, tutta colpa l'ora No, ma adesso vado Guardate come lo state facendo diventare Adesso ve la ballando con le stelle, guardami Altro che Sanremo è superato Ora si balla Consorini Andiamo Non avete sentito nulla Continuate a vedere questo video come se nulla fosse Ma guarda che solo tu non mi aprezi Ok? Loro sono sempre felici Calmati, sei un po' troppo gasato oggi Calmati E continua questo gioco Mi sono incastrato Guarda, ci siamo anche vestiti Almeno ci siamo vestiti in automatico Perché sarebbe stato un disastro Credo che questa chiave ci potrebbe servire E possiamo andare Faccio un altro balletto? No Ma smetti Ok Cammina Facciamo i seri Devo evitare le bucce di banane No Ok Tutto a posto Tutto a posto No Tutto a posto Mi sono fatto niente È il nostro papion È il nostro papion Allora Ci serve un piano per prenderlo Cosa ci dice? Tira giù il papion Lancia la presa Mentre stai muovendo il braccio Per scagliere un oggetto Quindi prendi un pacco regale e tiralo Sì ma aspetta Però non voglio stare in spaccata Prendiamo questo Che è grande Me l'ha regalato mia suocela E mi sta un po' antipattica No Troppo grande Oh yes Pensavo non ce la facessi per altri 5 minuti Mi è andata bene Ok Adesso questo papione lo dovrindo Sa Ce l'ho fatta Come hai fatto? Te l'ho detto che sono bravissimo Aspetta In poche parole devo riuscire No Metti le gambe dritte Aspetta mi sto confondendo Fai la spaccata nell'altro senso No Scusate È l'emozione Esatto La prima volta che uno si sposa È molto emozionato Allora se prendo Stai facendo un disatto No No Scusate È tutto a posto Io te l'ho detto Che ero pronta a fare la pastorella Però aspetta Sì Nessuno si è accorto di nulla Possiamo andare avanti L'indice è quello che è lì in basso Sì ho notato che è questa barra qui Quindi siamo ancora al sicuro Allora qua ci dovrebbe essere l'anello credo Perché è tutto illuminato Sì perché è esatto Infatti lo vedi che sbrilluccica È un po' grande Eh vabbè Però speriamo che gli andrà bene Si chiama Scarlett La nostra mogliettina Sì Ciao Scarlett Arriviamo mogliettino Allora Mi sa che l'hai dato un ceffone No 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 Tieni Eh beh ce la puoi fare È più bracciale che un anello L'hai visto? L'ha entrato tutto nell'anello L'anello non siamo riusciti a chiaparlo Ok quindi ci siamo sposati Aspetta Questo è il momento più romantico Ah sì Guarda che bellini che sono Ma quanto siete bellini Octodead Il miglior polpo che c'è Octodead Spaccherà tutto nel suo mondo Octodead Il migliore che c'è Continua regogni Niente un po' No Niente Sei felice così? C'era la canzoncina dedicata a Octodead Ok Ah era così Ma l'hai inventata Capivo solo Octodead Il resto L'hai improvvisato Bravo cantautore Esatto Ho scritto anche io una canzone Per il nostro polpo Certo mi sembra giusto Mi sembra giusto Esatto Spero ti sia piaciuto questo momento Non tanto Però possiamo andare avanti Tra di noi Siamo a casa nostra suppongo Sì però non credo che si dorma così in un letto Vabbè se lui vuole dormire così Lascialo perde Uh guarda C'è sia la foto del nostro matrimonio Sì la foto dei nostri figli Che non so come Di già Da due bambini Quanto tempo è passato? Hai notato che la figlia è uguale alla madre Il figlio poi è chiaramente uguale a noi Cioè guardalo Due gocce d'acqua Ma poverino ma insomma Nessuno potrà mai sospettare Che noi siamo dei polpi Perché il nostro figlio è così uguale Aspetta Guarda quest'altra foto Siamo in posa sexy Wow Ciao Che bellini che sono Allora Cosa state giocando? Volete giocare col paparino? Allora aspettate Prendiamo Questo No Voglio il treno Guarda qua Attenzione Brum 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 L'ho spaccato Gli stai rompendo i giocattoli Aspetta lo riappuccio Da dove vengono gli arcobaleni papà? Allora Dall'oceano Giusto? No Perché dall'oceano Il riflette l'acqua Sto scherzando Ti aspettavo dormiglione Allora guarda che abbiamo dormito pochissimo Guarda la nostra faccia Guarda la nostra faccia Eravamo già svegli da due ore Che leggevamo il giornale Mogliettina Ma cosa pensi mai? Noi che dormiamo Ma guarda Allora prepariamo il caffè Come visto che sia Ok Ci penso io Così magari ci svegliamo un po' Allora Ok 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 Questo Ok Qua Bravo Il caffè lì Pussante No il caffè lì in alto Pussante Stai facendo uscire solo l'acqua Devi metterci anche il caffè Ok Allora Questo Così? Sì Perfetto Aspetta che lo riappoggio Moglie È caduto il caffè Quando puoi recuperalo Io non sono in grado Allora dai Mentre si fa il caffè Ci provo Allora Io non ho molta mobilità In questo Oggi Sto un po' male Niente Lascialo Niente Mi arrendo Mi arrendo Da cosa partiamo? Facciamo la carne Che dici? Ok Allora la carne Era Dai il barbecue Vediamo un po' Come si cucina Come si cucina Tutto a posto Musica Ah, sistemamelo Mi sta avendo un nervoso con sto gioco Tu non hai idea Sto per buttare tutto per terra Ah, che fastidio Chiapami quel tronco Ti prego Mi devo avvicinare Vai Allora No, no, nel bidone no Il bidone lascia Calmati Respira Che poi Sai che questo gioco Penso proprio che si possa giocare anche in cooperativa Quindi non so se Riuscirò a darti una mano in quel senso Dovremmo provare Così magari la smetti di impazzire, no? Allora Adesso tu vieni qua No, no No, no Tu vieni qua No, non voglio E ci provi Provi a tagliare un solo tronco Così capisci quello che sto Diciamo subendo Da 20 minuti ormai Perché devi capire Che sofferenza è riuscire a comandare questo povero polpo Vieni, vieni Vieni, vieni Siediti Oh, che bello stare qua Non fare nulla Aspetta E guardare la nostra ferinichi Brava Ok Dove lascia? E devi tornare indietro Quindi devi premere Rotellina Muoverti con le gambe Allora, rotellina Adesso ti muovi con le gambe Bravissima Guarda che brava Mi muovo già meglio di te Ok, rotellina Rotellina A chiappi Con rotellina su e giù E alzi Ah, ok E adesso cerchi di appenderla Bravi Cosa vuol dire adesso sei mio polpo? Non lo so C'è un tipo strano con un macchinario Che ci vuole fare affette Credo che devi usare tipo le gambe Per tirargli quella specie di gnomi lì Ok Vai, vai, vai Continua a calciarli Dai un calcio Oh Aiuto Mi stavo per aspirare Mi stavo per aspirare No, mi è difficilissimo Cioè come fai a giocare Te l'ho detto Tesoro, che sta succedendo? Niente Tutto a posto, mogliettina Guarda È cascato un bambino Dell'altra posta Ha bucato tutto Adatto È un posto aspettosa Buongiorno Non ha mai visto un polpo Che fa la spesa? Scusi, eh Qua siamo razzisti Cosa pensa che i polpi Non mangino? Aspetta un attimo No, no, smettila Ti prego, no Dimmi che posso usarlo Se è il contrario Andiamo Ci sei È tutto ok? Steph fa la spesa È tutto molto normale Buongiorno signora Come sta? Tutto bene? Questo ci serve Mogliettina Ci serve assolutamente Un chocolate Minecraft È il cioccolato di Minecraft Capite? È il cioccolato alla menta di Minecraft Buonissimo No, dai, lasciamolo qua Ruba il creeper Il creeper ce lo portiamo No, no, il piccone Il piccone Questo ce lo portiamo a casa Allora, aspetta Lo portiamo a casa sicuro Eh, sì È troppo bellino È troppo bellino Lo rubiamo, dai Io lo vorrei davvero qua appeso dietro È esatto È troppo bello se lo rubiamo Andiamo via col piccone Allora Signora, visto per caso Il latte al cioccolato Non so chi lo beve Ma quanto pare i nostri figli Bevono latte al cioccolato Quindi L'ha visto da qualche parte? Signora, al volo No, no Ci ignora totalmente Signora, ce li provi, eh Lo deve acchiappare Tenga Continua a fissarti Non capisce Allora, aspetta che io mi devo avvicinare Per riuscire ad arrivarci Oh, yes Andata Trovate il latte Perfetto Il latte l'abbiamo preso Adesso dobbiamo prendere la pizza Continua a insistere con questa pizza E sicuramente lui ha voglia di pizza Quindi Eh, anche io Sta pensando solo a comprare la pizza Guarda tutto il latte in giro Vabbè, ecco per la signora Che non l'ha acchiappata al volo Esatto Signora, ma si rende conto Che le signore di oggi Non l'acchiappano più il latte al volo? Allora Credo che dobbiamo Entrare qui dentro Perché stai entrando? Perché non so come rimarce la pizza Allora, aspetta, eh Guarda No, dai, ti prego Guarda Cosa ci fai nel congelo? Apri lo sportello Come le persone normali Scusa No, sono un polpo I polpi No, vabbè È la cosa più brutta Che abbiamo mai visto Non è bellissimo Dà una soddisfazione Riuscire a passare qui in mezzo Che tu non hai idea Solo un polpo lo può capire No, no, no Che succede? Ok, è fatta apposta È fatta apposta Guarda, guarda Sì, sì, sì Adesso qua troviamo la pizza Oh, yes Oh, alleluia Ah, si chiama Tommy Abbiamo scoperto il nome Quindi Scarlett Stacy Stacy e Tommy Me li stavo già dimenticando Perfetto Io non mi ricordavo più Stacy Io non ricordavo più Ah, gli ultimi cereali di Sport Johnson Spero che nessuno me li rubi Mentre io guardo di qua E se dici così Proprio non ci fai venire voglia Di rubarli Già rubato tutte le cose di Minecraft Siamo esperti Cioè lì dietro Ci siamo sgobati tutto Scusi signora Ma mi sta guardando male Io qua Sto guardando questo carbon coffee E lei mi guarda male Come si permette Allora, aspetta Occhio che non ti guarda No, ti sta guardando Ma come faccio ad acchiapparlo? Nulla signora Ma perché è così sospettosa Verso i polpi Me lo spiega? Vada a vedere Se c'è ancora Qualche pizza congelata Buona Vai, muoviti a rubare Sti cereali Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ma ti sembra che dobbiamo Rubare le cose Dai carrelli degli altri Scappa, 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 scappa Scappa, scappa Prima che si giri Cereali Pizza E latte Al cioccolato Cioè non abbiamo comprato Una cosa sana Ho notato, ho notato Li facciamo diventare dei polpi A furia di mangiare così Ai nostri figli Ci puoi contare Ci puoi contare Comunque direi di fermarci così Che se no poi abbiamo troppa registrazione E l'episodio dura decisamente troppo Fateci quindi sapere nei commenti Nei likes Nel sondaggio Se volete una miniserie su questo gioco Altrimenti rimarrà questo episodio singolo Tanto comunque è molto bellino Anche come episodio singolo Sì esatto Però speriamo che vorrete la miniserie Perché secondo me è molto divertente È molto carino Molto diverso dal solito Perché è strano Con questi comandi molto particolari Il gioco mi sembra già molto particolare Anche perché poi abbiamo già notato Che c'è qualcuno Che sa che siamo polpici Dalla caccia Quindi anche questo Un po' andrà scoperto Io mi sono già affezionato a lui Alla sua famigliola Quindi vorrei vedere come va avanti Quindi speriamo che vi sia piaciuto E ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi è venuto così Se ci lasciateci un like E se è la prima volta che vi vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi E per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao